Musica Benvenuti, questo è Business Middle East Questa settimana diamo un'occhiata all'andamento del prezzo delle materie prime Un vento d'ottimismo soffia sul prezzo del petrolio e dei metalli preziosi Aumenti significativi sono stati registrati dall'inizio del mese Dopo prestazioni poco entusiasmanti nel terzo trimestre I metalli preziosi restano investimenti rifugio per gli investitori L'oro ha fatto registrare la sua migliore quotazione dopo il primo trimestre dell'anno scorso Sorprendente anche l'argento Ma cominciamo dalla tendenza evidenziata dalle materie prime dall'inizio del mese Le quotazioni delle materie prime degli ultimi giorni hanno evidenziato segnali di ripresa Il prezzo del petrolio è aumentato dall'inizio del mese e ha chiuso la settimana con un più 8% L'aumento più considerevole in 6 settimane Aumento inatteso anche delle quotazioni del petrolio americano Il barile di Brent è aumentato dell'8,83% E il barile di petrolio qualità WTI del 10,7% dal primo ottobre Questa tendenza si spiega con la flessione del dollaro I negoziati sul petrolio tra Russia e Arabia Saudita la settimana scorsa E le previsioni del gruppo Pira Energy Che stima che il prezzo del petrolio aumenterà fino a 75 dollari il barile nel corso dei prossimi due anni A proposito di metalli preziosi, l'oro è aumentato del 4% Tra il primo ottobre e la fine della scorsa settimana Cancellando la maggior parte delle perdite fatte registrare in settembre E raggiungendo venerdì i 1.559 dollari l'oncia Un aumento che si è verificato dopo la decisione della Federal Reserve Di aumentare i tassi di interesse e per il rallentamento dell'economia cinese Per ridurre i rischi gli investitori sono dunque spinti a guardare ai metalli preziosi Anche il valore dell'argento si è distinto per un inatteso balzo da record Il suo valore ha raggiunto un più 9% tra il primo e il 9 ottobre Una prestazione che cancella tutte le precedenti perdite Per saperne di più ne parliamo con Nureldin Hamuri Direttore delle strategie di mercato presso ADS Securities ad Abu Dhabi Abbiamo assistito ad un aumento considerevole del prezzo del petrolio Soprattutto la settimana scorsa Possiamo affermare che è cominciata la ripresa? Sì, lo abbiamo constatato in agosto Abbiamo intravisto i segni che lasciavano presagire l'inizio della stabilizzazione Visto che la maggior parte dei fondamentali economici negativi sono stati anticipati Inoltre il rapporto oro-petrolio ha mostrato segnali chiari di questa stabilizzazione Più di ogni altro indicatore Senza contare che è inciso anche un dollaro più fragile A causa della politica condotta dalla Federal Reserve Che ha causato un aumento dei prezzi del petrolio di recente Dobbiamo comunque continuare ad analizzare i segnali per come si presentano Attualmente ci sono spunti di stabilizzazione Con una leggera dinamica al rialzo A causa delle tensioni in Medio Oriente O della possibilità per i produttori non membri dell'OPEC Di discutere gli attuali prezzi I prezzi dell'oro della settimana scorsa sono stati generati dalla decisione della Federal Reserve Di aumentare i tassi di interesse Molti hanno optato per un investimento sicuro È una tendenza o un episodio? Ogni volta che ci troviamo in periodi di incertezza Tutti si rifugiano nell'oro È accaduto anche di recente Per fondi speculativi che avevano fatto registrare perdite considerevoli A causa della crisi dei mercati a livello mondiale Qualche settimana fa A tutto ciò si aggiunge l'incertezza sulla politica della Federal Reserve Che ha spinto ad investire in beni rifugio come l'oro Inoltre dopo l'ultimo rapporto Commitment of Traders pubblicato dalla Commissione Americana dei Mercati a Termine Si evidenzia come le posizioni lunghe siano aumentate del 9% la settimana scorsa Ciò significa che un numero considerevole di investitori e trader si rivolge ai beni rifugio Parliamo dell'argento ora Se il rapporto oro-argento resta tale Come potrà in futuro generare ancora profitto? Se guardiamo all'evoluzione della razza oro-argento Ogni volta che si colloca tra 77 e 88 L'argento tende a diminuire prima di aumentare nuovamente Funziona così questo rapporto e la sua relazione con il valore dell'argento dagli anni 80 La settimana scorsa era 77 Poi è diminuito nuovamente a 71 L'argento è aumentato di nuovo dell'11% nei giorni seguenti Quindi se fa registrare ancora un aumento e se il rapporto resta sotto gli 80 Significa che l'argento ha raggiunto di nuovo un equilibrio E che nuovi aumenti sono prevedibili Che valori i trader si devono attendere oggi? A breve termine molti trader e investitori parlano di 17-18 dollari l'unce A livelli che corrispondono ad una zona di resistenza solida Potremmo avere una flessione a breve termine Prima di un nuovo aumento Sempre se la razza oro-argento resta tale Per oggi è tutto Condividete i vostri commenti sui nostri social media Utilizzando l'hashtag Business Middle East Grazie per la vostra attenzione Alla settimana prossima Grazie per la vostra attenzione